Carissimi amici di Fede e Cultura, ben trovati a questo nostro consueto appuntamento del sabato pomeriggio per leggere e commentare insieme la sequenza di Vangelo che la Chiesa proclamerà domani nella liturgia, secondo la forma straordinaria del rito romano, come amava chiamarla Papa Benedetto XVI, oppure come si dice più comunemente la messa tradizionale o messa in latino. Lo facciamo come sempre sulla scorta del messale festivo tradizionale su Morum Pontificum che abbiamo pubblicato, un'edizione davvero pregevole, dove trovate all'interno il proprium, cioè tutte le preghiere e le letture proprie appunto delle domeniche e delle solennità, delle feste del calendario liturgico cattolico. Come sempre ci ritroviamo dopo la sigla. Prendiamo allora la nostra copia del messale festivo tradizionale. E siamo a pagina 493, dove troviamo il proprium dell'ultima domenica di ottobre, che secondo il calendario tradizionale è festa, solennità di nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'universo. E a pagina 495 troviamo la sequenza di Vangelo. Come sempre la trovate sia in latino, ma anche con la rispettiva traduzione italiana. La sequenza è questa volta tratta dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 18, dai versetti 33-37. La Chiesa, in questa occasione liturgica, ci fa tornare spiritualmente e mentalmente al periodo della Pasqua. Infatti in questa sequenza di Vangelo troviamo Gesù di fronte a Pilato, il famoso interrogatorio sulla verità e sulla regalità di Cristo. In quel tempo Pilato disse a Gesù, tu sei il re dei giudei? Gesù rispose, dici questo da te, oppure altri te l'hanno detto sul mio conto? Pilato rispose, sono io forse giudeo? La tua gente e i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto? Rispose Gesù, il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei ministri avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di qua giù. Allora Pilato gli disse, dunque tu sei re? Rispose Gesù, tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla parte della verità, ascolta la mia voce. Dunque, è un brano del Vangelo molto intenso e che ci pone sin da subito di fronte a un interrogativo, anzi di fronte a un'apparente contraddizione. Perché noi domani festeggeremo la regalità di nostro Signore, Gesù Cristo, su tutto l'universo, eppure abbiamo sentito che qui Gesù dice a Pilato, il mio regno non è di questo mondo. Ora, quando parliamo di regalità dell'universo, con la parola universo, non intendiamo in questo caso dare alla parola universo un'accezione, come dire, astronomica, scientifica, nel senso di cosmo, quanto dal punto di vista dell'etimologia della parola universo. Universo significa tutto ciò che esiste, intesa come un'unica cosa. Il Signore Gesù, in quanto Dio, è Signore, cioè padrone, creatore, ma anche governatore di tutto quello che esiste, sia sul piano materiale, e quindi evidentemente il cosmo in cui viviamo, sia sul piano spirituale. Quindi Dio è Signore anche, ovviamente, del paradiso, ma è anche Signore dell'inferno. Eppure Gesù dice, abbiamo sentito, il mio regno non è di questo mondo. Allora perché proclamare la regalità di Cristo? Perché proclamare, come hanno insegnato i papi del passato con il loro magistero, perché predicare anche la regalità sociale di Cristo? Cioè dire che Gesù è e come Signore di questo mondo, quindi affermare che il regno di Gesù è di questo mondo. Bisogna capire allora che la regalità di Dio si manifesta su più livelli, diciamo così. C'è una regalità, cioè una signoria da parte di Dio su questo cosmo, su questo mondo, e quindi sull'umanità, che procede da un diritto naturale, perché Dio è creatore e dal momento che tutto ciò che esiste gode di questa dimensione di creaturalità, inevitabilmente è in un rapporto di inferiorità nei riguardi di Dio. Tutti noi siamo figli e sudditi di Dio da un punto di vista naturale, cioè da un punto di vista di creature, e non possiamo sottrarci a questo rapporto. Ma questo è solo il primo livello, il primo grado della regalità di Cristo, della regalità di Dio. C'è un secondo grado che è più importante, ossia la regalità di colui, il dominio di colui che ha redento l'umanità. Come dice San Paolo, i battezzati, e solo i battezzati, sono figli di Dio dalla prospettiva soprannaturale, cioè siamo coeredi di Cristo, dice San Paolo, coeredi nel senso che partecipiamo della stessa figlianza di Dio. Gesù è figlio di Dio secondo natura, perché gode della stessa natura del Padre, la natura divina. Noi, battezzati, siamo figli di Dio in senso adottivo, scrive San Paolo. E quindi partecipiamo per i meriti della passione morte di Gesù, possiamo essere chiamati davvero figli di Dio. Ecco, questa è la seconda dimensione, il secondo livello di questa regalità di Dio, che è quella che a noi ci interessa di più, per comprendere in che senso dobbiamo dire che il regno di Cristo si estende anche a questo mondo. Ora, nello stesso Vangelo di Giovanni, in qualche capitolo precedente, noi leggiamo che Gesù dice ora è venuto il giudizio di questo mondo, e il principe di questo mondo sta per essere gettato fuori, così dice Gesù. Il principe di questo mondo è l'espressione giovanea tipica per indicare Satana. E in effetti l'uomo con il peccato, in particolare con il peccato originale, ha, diciamo così, spodestato Dio dal suo trono, anche se ovviamente non può essere spodestato, diciamo così, ha consegnato le chiavi del potere a Satana, al peccato, quindi alla morte. Ma con la venuta di Gesù in questo mondo, ecco che il sacrificio di Cristo sulla croce ha riportato Dio sul suo legittimo trono e ha spodestato invece l'usurpatore, che è il diavolo. E infatti Gesù lo dice esplicitamente alla fine di questo brano del Vangelo. Gesù dice a Pilato «Io sono re, per questo sono nato e per questo sono venuto nel mondo», cioè per ripristinare il mio trono, la mia dimensione di regalità. Ricordiamo che Gesù sta parlando a Pilato proprio nel contesto della sua dolorosa passione. «Sono venuto nel mondo per rendere testimonianza alla verità e chiunque dalla parte della verità ascolta la mia voce», dice il Signore. E quindi la croce diventa il trono di Cristo Re. Il trono di Cristo Re. Ecco, dal momento della passione Cristo ha ripreso, diciamo così, il proprio legittimo regno anche su questo mondo. E del resto lo diciamo anche ogni giorno, spero, ma almeno la domenica, nella preghiera che il Signore ci ha insegnato. Cioè nella preghiera del Padre nostro, a un certo punto, noi diciamo «Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra». Quindi il Signore Gesù ci ha insegnato a chiedere al Padre di estendere i confini del suo regno in questo mondo. Come fare? Bene, ciascuno di noi è ministro, è guardia, è cavaliere di questo regno divino soprannaturale. E per essere buoni i cavalieri di Cristo che lottano contro le forze delle tenebre, le forze del male, dobbiamo santificarci. I santi sono i veri cavalieri, i veri soldati di Gesù Cristo. Ed estendere i confini del regno significa dare appunto testimonianza alla verità, e la verità è lo stesso Cristo, quindi dare testimonianza a Gesù con la nostra vita, quindi con la nostra fede, aderire fermamente a tutte le verità che la Chiesa, che Dio ci ha insegnato attraverso la Chiesa, vivere nella grazia e compiere le buone opere. quindi cercare di dare testimonianza non solo con la parola, ma soprattutto con l'esempio, con la nostra vita incarnata, dare testimonianza alla verità, che significa poi dare testimonianza al bene, che è lo stesso Dio, che è lo stesso Cristo Gesù. Vi invito come sempre a visitare il nostro sito www.fedecultura.com e ad acquistare, se non l'avete già fatto, una copia, la vostra personale copia del messale festivo tradizionale su Morum Pontificum. Vi invito ad acquistare direttamente dal nostro e-commerce, dalla nostra libreria online, se avete difficoltà potete contattarmi direttamente nella chat sul nostro sito e ricordandovi ovviamente che questo è il modo migliore per sostenere il nostro apostolato. Certo potete comprare, potete acquistare tutti i nostri libri anche presso i grandi centri di distribuzione come Amazon, però ecco, vi chiediamo la cortesia di acquistarli direttamente dal sito di Fede e Cultura perché è un modo con cui appunto potete sostenere il nostro apostolato in maniera più cospicua e in maniera più concreta. Grazie come sempre della vostra attenzione, della vostra partecipazione e noi ci vediamo un prossimo appuntamento sempre qui sul canale YouTube di Fede e Cultura. Grazie e Santa Festa di Cristo Re dell'Universo a tutti voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.